Abbiamo 7 miliardi per il reddito di cittadinanza, reddito di cittadinanza io stesso chiedo scusa perché come membro del governo, non membro, come membro della Lega, del governo giallo-verde abbiamo votato anche noi, certo c'erano dei presupposti positivi, doveva aiutare il lavoro. Scusate ma questa la voglio registrare, mi spiegherò che chiede scusa per il reddito di cittadinanza. Ma lo dico chiaramente, è vero a nostra discolpa che partiamo dai presupposti positivi perché laddove si diceva finalmente uno stratagemma non solo di welfare, non solo di assistenzialismo ma per reintrodurre la gente che è ridotta nella marginalità a uscire dal cono d'ombra della disoccupazione facciamo il reddito di cittadinanza. Però poi alla prova dei fatti, risultati sul fronte del lavoro, zero. Io che incontro tantissime persone tutti i giorni, non ho avuto ancora l'onore di conoscere una persona che ha trovato un posto di lavoro corretto in cittadinanza. Posso fare l'avvocato del diavolo, Cattaneo? Non l'avete mai digerita, adesso potete dirlo però. È vero, adesso possiamo dirlo, però purtroppo magari era meglio anche essere, diciamo, stare qui a descrivere fatti diversi. Dici no, non è esattamente così, qualcuno ha trovato lavoro, però qua i dati sul mondo del lavoro non ce ne sono, non si riescono a reperire. L'avete mai diverso. Grazie a tutti